Terra Luna Classic Lung, la vedremo presto ad un dollaro oppure è un vero e proprio scam? Terra Luna Classic è una truffa oppure è una grande opportunità di investimento? Lo scopriremo nel nuovissimo video di oggi. Benvenuti su CryptoNFT Italia, io sono Ryan e oggi vi porto all'interno del mondo di Terra Luna Classic. Naturalmente stiamo andando a realizzare questo video dopo aver visto tantissimi dei vostri commenti nel corso di queste settimane. Alcuni positivi vi ringraziamo per continuare a seguirci, anzi vi dirò naturalmente se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina delle notifiche veramente di vitale importanza se volete supportarci e volete che continuiamo a portare contenuti di questo immane valore. Questo lo diciamo perché ce l'avete detto voi. Alcuni invece all'interno dei commenti hanno fatto i bulletti, hanno fatto i simpatici pensando che naturalmente quando noi andiamo a trattare una criptomoneta come Terra Luna Classic e parliamo di un dollaro, vediamo un dollaro il giorno dopo. Non è così. Vi garantisco che da questo punto di vista noi in primis non diamo mai consigli finanziari essendo che non siamo consulenti finanziari quindi non ci interessa farlo ma nello stesso tempo vi garantisco che nel mondo delle cripto ci siamo da tanto tempo ci abbiamo guadagnato tanto anche con Terra Luna, col vecchio e col nuovo e quello che noi diciamo ha sempre una cognizione di causa che non è da invasati, questo lo vogliamo chiarire e quindi chiariremo in questo video naturalmente l'evoluzione di Terra Luna Classic infatti dovete considerare una cosa molto ma molto importante che per come la situazione era andata avanti nel corso degli scorsi mesi con il megacroll e tutto il resto vedere oggi una community così coesa che sta cercando di far riprendere il token e che comunque le cose vengono fatte, ci sono all'interno della governance delle proposte che poi passano che vengono fatte Binance stesso accetta di barnare, gli altri exchange a mano a mano stanno accettando capite bene che questo vuol dire che è una grande prova di forza e queste prove di forza raramente le vediamo all'interno del mondo delle criptovalute e quando hai una community così coesa puoi andare molto lontano perché anche nelle difficoltà trovi delle soluzioni lo staking che è stato implementato nel mese scorso è qualcosa di incredibile e adesso al di là delle API strane che c'erano all'inizio si è stabilizzato con le giuste API che fanno sì che il token naturalmente da questo punto di vista non diventa di nuovo inflazionistico il bar non lo stanno facendo se io vado a vedere all'interno adesso lo dico in market cap non me lo dice chiaramente però comunque se io vado sul lungpenguin io ho qui la possibilità di poter visionare che sono stati barnati 3 miliardi e mezzo non considerando Binance di Terra Luna Classic e 2 milioni di USDC che comunque fino a prima non c'erano quindi è meno moneta circolante che c'è in questo momento e che quindi porta mano a mano a far aumentare per forza di cose il valore del token c'è molto da fare c'è molto da dire c'è molto su cui spingere però siamo solo all'inizio cosa molto importante cosa molto importante in questo momento siamo a un prezzo di 0,30342 e se noi andiamo ad analizzare gli ultimi 7 giorni possiamo vedere che eravamo arrivati a questo 0,30272 o qui addirittura eravamo arrivati a 2608 e qui ci siamo rialzati alla grande quindi comunque adesso Terra Luna Classic a mano a mano si sta alzando di prezzo e noi per quello che è il nostro ragionamento vediamo questo 0 comunque che Terra Luna Classic lo andrà a mangiare nel corso delle prossime settimane barra mesi accadrà secondo noi accadrà poi ci possiamo sbagliare ma secondo noi è più probabile che vada a mangiarsi questo 0 che perda un ulteriore 0 e quindi ritorni di nuovo qui questo naturalmente non vi sto dicendo di investire in Terra Luna Classic perché come sapete mi abituate il vostro caro Ryan a fare le cose con condizioni di casa e investire con la vostra testa però detto questo Binance vi ricordiamo che ha implementato la tax barn e vi ricordo che questa notte è stato calcolato il totale ufficiale di quanti Terra Luna Classic sono stati barnati e martedì che sarebbe praticamente poi domani ok quindi a partire dalle due di notte italiane o due del mattino come qualcuno vuole dire e praticamente quello che succederà è che Binance ci dirà ufficialmente quanto ha barnato, quanto ha bruciato quindi domani magari verremo con un nuovo video qui sul canale vi diremo esattamente ufficialmente al 100% al centesimo quanti token di Terra Luna Classic Binance ha barnato vi ricordo che Binance barna con le sue tasche non tocca gli utenti ed è questa una cosa straordinaria ora tra le altre cose vi ricordo che tra i top holders abbiamo sempre Binance e quindi è fondamentale Binance Binance ha 2.361.000.000.000 di token il 34% e guardate anche le staked coins pool questo è importante quindi molti hanno messo in staking e per quanto riguarda invece i top barner vi ricordo aggiorniamo un attimino la pagina eccoci qui che praticamente ormai la tax barn ha superato di molto il Lunatics token ok quindi adesso siamo a 3 miliardi e mezzo di tax barn ma ancora non stiamo considerando Binance e non stiamo considerando a mano a mano i veri exchange che entreranno in questo meccanismo e che permetteranno di barnare come se non ci fossero domani e adesso è arrivato il momento di svelarvi quanto ha bruciato realmente Binance per quanto riguarda i primi 10 giorni prima di andare avanti però iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi altri contenuti e news come questa comunque per chiarire per noi Terra Luna Classic Lung non è uno scam ok quindi noi non pensiamo che sia uno scam per noi è fondamentale però comprendere che non possiamo vedere Terra Luna Classic a un dollaro nel breve periodo ma probabilmente lo vedremo quando ci sarà un barn spietato ci sarà un nuovo bull market e magari dopo l'albing di Bitcoin ok quindi questo è quello che potrebbe essere la nostra previsione entriamo nel dettaglio allora di questa notizia l'abbiamo vista condivisa anche da altri crypto influencer la riportiamo anche noi perché è giusto che sia così essendo una notizia non ufficiale al 100% però andando a fare dei piccoli calcoli sul totale sul volume totale come potete vedere qui ci spiega anche che ogni martedì al mezzanotte che sarebbero le due italiane praticamente sappiamo esattamente quanto Binance ha bruciato ce lo comunicherà Binance quindi domani probabilmente usciremo con un video ufficiale per adesso l'anticipazione che vi possiamo dire che Binance ha barnato quasi 15 miliardi di token ripetiamo Binance ha barnato ha bruciato quasi 15 miliardi di token paragonato a quello che era stato fatto fino ad ora andando all'interno della dashboard ufficiale 3 miliardi e mezzo capite bene che c'era bisogno di Binance perché qui abbiamo fatto un 5 per rispetto a questo risultato quindi Binance era fondamentale quindi continueremo a barnare con i metodi classici ma anche attraverso Binance aumenterà questo barn e quindi di conseguenza diminuirà a mano a mano la supply solo domani sapremo esattamente a che cifra corrisponde ok ma più o meno dovremmo essere a quasi 15 miliardi di token barnati secondo voi è una notizia positiva o una notizia negativa dovrebbero barnare di più o di meno qual è la vostra previsione per quanto riguarda lungo nel breve medio e lungo periodo fatecelo sapere nei commenti qui in basso noi ci vediamo in un prossimo video qui dal vostro Ryan è tutto ciao e a presto